Anche quest'anno sembrava essere un appuntamento perso con la tradizione e invece il Palio 2021, seppur in forma ridotta, sta facendo divertire Rivara. Il primo appuntamento si è tenuto sabato 11 settembre nel parco di Vildogliani, protagonisti ragazzi, un omaggio all'ettrospettiva del compianto Giacolin Savattone, nei giochi dei ragazzi. Mercoledì invece, incastonata in una serata speciale, torna il classico dei classici, del Palio dei Rioni di Rivara, la staffetta in Cariola. La carmè scolorata ha visto l'entusiasta partecipazione del sindaco Andriollo e del suo vice Martino, scese in campo a fianco dei giovani rivaresi per sostenerli con il loro tifo. Grazie a tutti!